Eccoli, contenti, contentoni noi, 1729 Radio DJ, benvenuto Gael Garcia Bernal. Hola, grazie, grazie, grazie. Ciao. Scusa il mio italiano. Come vale? Ciao. Ciao. Tutti emozionati. È praticamente un miau. Grazie, sì, sì, sì. Grazie. Tra l'altro, naturalmente, oltre a essere bellissimo, bravissimo, internazionale, è simpatico e parla anche un po' italiano. E ha bevuto e ha accettato una birra da noi. Questo lo rende uno di noi. Claro, chiaro, immediatamente. Allora, l'occasione è l'uscita di un film che si chiama Another Hand, di cui adesso Diego ci fa una sinossi per Piero Messina. È una storia tosta. Sì, è la storia. È un esercizio di cui da poco noi abbiamo parlato di fantasia, tra l'altro, proprio ieri un po'. È la storia in cui Gael interpreta Sal, che è un uomo che perde la compagna in un incidente d'auto e c'è il dolore della perdita, ma anche il dolore di non essere riuscito a salutare una persona così importante e in questo dolore che lo spinge a pensare anche al suicidio, la sorella dice guarda che nella mia azienda stanno sperimentando un software che possono mettere nella testa di una persona che fa la volontaria in cui verranno innestati i ricordi della tua Zoe e in questo modo avrai un po' di tempo nel quale potrai trovare il modo di salutarla bene, godendoti dei momenti in più per dire poi l'addio. E parte la storia di una conoscenza con un corpo nuovo, dove c'è la sua vecchia lei, la sua vecchia Zoe e poi nel frattempo si fa luce, si fa strada, la persona vera che sta dentro a quel corpo. E però c'è questa questione di poco tempo. Sì, sì, poco tempo. Buona sinopsis, eh? Muy buona. Avevo capito. Avevo capito, esatto. Il tempo a disposizione è poco ed è un tempo che vorresti che non finisse mai. Sì, sì, sono... Può parlare in inglese per che la traduzione sia buona. Come vuoi. Sì, perché sennò il mio italiano è molto rustico. Ok, ma anche noi siamo molto rustici. Ok, so, yeah, it's only for one week or a couple of weeks that the body, kind of, the host body can do its function. And in this period is where the character has to, well, sorry, where the person has to say goodbye. So it becomes even more traumatic. You know, it's like a double traumatic type of therapy. But it's an interesting hypothesis and a very present future, actually. Sì, effettivamente il tempo a disposizione è molto poco. Una settimana, due settimane al massimo in cui questa sostituta può svolgere la propria funzione. E questo è per concedere il tempo di congedarsi, di dire addio. E diventa ancora più traumatico perché sostanzialmente è una doppia morte. Però è interessante, è un futuro molto immediato. Ma rispetto a questa storia, che è una storia che comunque ti tocca profondamente, tocca delle corde in ognuno, non c'è niente da fare. Quando hai letto Il Copione, qual è stato il tuo primo pensiero? C'è stato qualcosa che ha toccato qualcosa di te che hai detto, sì, questo mi sento che può essere assolutamente un film che voglio fare? Sì, assolutamente. First of all, was the philosophical controversy that the director puts forth, which is normally in Western society, we think that the body is disposable. It's like separated completely from the anima, from the mind. And what the film challenges is that notion. It says, is it really not that important, you know, the body? Sì, sicuramente mi è piaciuta la controversia filosofica che è quella che solleva il regista in questo film, perché noi nelle nostre società occidentali siamo abituati a considerare il corpo come completamente distinto dall'anima e dalla mente. e invece il film sfida questo concetto e ci dimostra che il corpo ha la sua importanza. Eh sì, è una custodia importante, è un involucro che si mescola tanto poi con quello che invece c'è dentro, cioè che sia l'anima o lo spirito, quello che uno poi vuole provare a pensare. Senti, come ti sei trovato? Una cosa che ci fa molto ridere è pensare che appunto un attore che ha vinto tanti premi, che gira il mondo, adesso poi diremo anche le prossime città dove sarai in Italia a presentare Another End. Cosa ti hanno detto di questo programma venendo qua? Ah sì, tutti hanno detto che questa radio esiste per un tempo, prima che la radio esiste? No? Sì, loro dicono. Ma non c'era la televisione back then, quindi non puoi capire, non c'erano documenti. Esatto. Per mostrarlo. So, ho sentito questo e molte persone crescendo, non c'erano questa radio station, no? E questa radio show, no? Sì. I think so. Sì, sì, sì. Yeah. Sì, devo dire che tutti mi hanno detto che questa radio esiste da tantissimo tempo, prima ancora dell'invenzione della radio, così dice la gente, però all'epoca non c'era la televisione, quindi non ci sono immagini documentarie che possano dimostrarlo e che i giovani crescono ascoltando la radio e in particolare il vostro programma. È vero, questo è una volta c'era solo Pinocchio e Cher. Erano le due forme di vita sulla terra. Ma era tanto tempo fa. Sì, sì. Ah, sei mocio anno. Sì, mocio, mocio tempo, io sei. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi in demanda e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. 17.37 radio DJ, anzi è 38 in questo momento. Che ci crediate o no, abbiamo ospiti a Pinocchio, Gael Garcia Bernal. L'occasione ce la dà l'uscita del film Another End, di cui vi abbiamo parlato poco fa. Lui sarà in Italia, vogliamo dire le città dove... Oggi c'è la presentazione al Cinema Anteo di Milano, domani a Roma al Cinema Multisala Luxe alle 18.30 e poi alle 20 al Cinema Multisala Giulio Cesare prima, Cinema Multisala Giulio Cesare e poi Cinema Multisala Luxe. Sabato 23 marzo a Bologna e domenica 24 marzo di nuovo a Roma. Cercate i cinema perché è in giro. Sì, allora, hai vinto un sacco di premi e hai vinto quei premi che noi siamo abituati a vedere in televisione e di cui poi Valentina, che è la nostra massima esperta di gossip... Esattamente. Riporto poi... Sì, perché il discorso, la consegna del premio è importante, ma il discorso quando ricevi il premio è altrettanto importante. Il famoso acceptance speech. Esattamente. Sì, sì, sì. Quindi uno va a queste premiazioni, non sa se vince, ok? Immagino. Però il discorso lo deve avere preparato. Ah, è strano, no? Ok, I mean, as a Mexican, I'm already expecting not to win. Ok. No, sì, o sea, no, we're not going to win. Ok, that we take for a start. But then, yeah, when it has happened, it has been very, very surprising. And I had to think of something. And what I honestly had thought is that, you know, with my, you know, the most important people in my life, you know, like my kids and that's it. And so I think about my kids. That's like finishing a marathon. I think if I ever run a marathon, I've never done it. I would think of my kids for some reason, no? Which gives you some time to think about other people and to think about other things. Ok, ok. Beh, innanzitutto da bravo messicano non mi aspetto mai di vincere. Quando poi accade è veramente una sorpresa. Immediatamente devi pensare a che cosa dire e ti viene immediatamente in mente di ringraziare le persone che contano di più nella tua vita. Quindi i figli e naturalmente anche se dovessi correre una maratona, penserei ai miei figli e li ringrazierei. E questo ti dà il tempo di pensare a quali altri ringraziamenti puoi fare. Sicuramente ti dimentichi qualcuno e poi quando ti siedi... Oh! Claro, claro. No, that's why sometimes, for example, it was Sorrentino, no? Who said thanks to Maradona, no? Sì. Yeah. Of course. Yes, in my life has been very important. Zapatistas have been very important in my life also. You know, like, I would think of those things, you know, immediately, like, do a kind of a chaotic thank you and many people will be left behind. But there's always, you know, the most, the nicest thing is the people that are genuinely very happy for you. Sì. That is the nicest because you really feel who genuinely is, like, almost more happy than you are, you know, like more and they hug you and it's like, oh man, it's the best. For the rest, you give a fuck. Yeah, 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 so. Assolutamente sì, ed è per questo che, per esempio, Sorrentino ha ringraziato Maradona, io potrei ringraziare Elisa Patista, veramente sono ringraziamenti sempre molto molto caotici e ti dimentichi regolarmente qualcuno, ma quello che mi tocca particolarmente è chi è veramente genuinamente contento per te e quasi più felice di te, ti abbraccia ed è entusiasta e per il resto, chi se ne frega. Molto bene, che eleganza di traduzione. È molto buona, è molto buona. Senti, allora, quando devi andare a un premio, mettiamo il premio più importante, quello che per te è stato il premio più importante, qual è stato? Eh, ah, non so, ma del cinema, no? Sì, sì, sì. Creo che Cannes, Cannes. Ok, ok. Sì. A che ora ti vesti? Metti che la serata è alle otto. Sì. Ok, fantasia, ore otto bisogna essere lì. A che ora ti vesti? Sì, otto red carpet. Otto red carpet. Sì, cinque. Ok. Sì, cinque per una birra, una cosa, sì, tranqui, no? E dalle cinque alle otto non ti sedi mai perché sennò ti si sguacchisce il pesito. Ti stai in piedi. Sì, sì, devi stare in piedi. Sì, devi stare in piedi. Sì, stai in piedi, sì. Ok. E per esempio, se prendi la macchina, la giacca non la metti, la devi tenere appesa perché si sguacchisce. Oh, I'm very bad at that. I go inside without... Con la giacca. Con la giacca. I know, I know, I'm sorry. I should have listened to the radio before. I know, I know, I know, I'm sorry. Maybe that's why I don't win. Maybe that's why most of the time. Ok, mangiare, mangi prima o dopo? Ah, no, non mangio. Questa giornata non si mangia. Non si mangia mai. Non si mangia nada. Dopo, dopo. Ma tardi, una fame. Sì, non importa. Perché poi lì, nella sala... Una fame del triunfo. Ah, ecco. Sì, una fame. La fame del triunfo. La fame del triunfo che adesso voglio gestirla anche io. E poi, con la fame che hai, se non vinci, dopo mangi qualunque cosa. Esatto. Ma ti si chiude anche un po' lo stomaco forse. Ma perché non si mangia? Perché... Perché non si mangia? Per il nervio, no? Ah, per il nervio. We become a little bit nervous and also, I don't know, I feel that you are so hormonal, you know, with full of adrenaline and other things. And so, I don't think food is something that kind of comes into the picture. Ma mentre stai lì, che ci sono le telecamere che inquadrano... Cioè, pensi sempre che ogni secondo ti stanno magari inquadrando e devi essere preciso. There is a moment, there is a moment, I must say, even though, come messicano, you know, I know I'm gonna lose, but there is a moment, a nanosecond, right, when they're mentioning the names, that I go, maybe, ah no, and then no, and then it doesn't happen, and then it doesn't happen. But it's better to be used to that, because when you win, it's like, I don't know, it's like... No, infatti, quando vinci, lo diciamo tra poco a cosa. Ah, sì, 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 sì. E poi mettiamo la canzone, ma quando vinci, lo voglio sapere, eh? Non si mangia perché si è un po' nervosi, sicuramente ci sono gli ormoni in circolo, l'adrenalina e altre sostanze che ti girano per il corpo e che sostanzialmente ti privano del senso di fame, quindi non mangi mai. E poi, effettivamente, da bravo messicano, come dicevo prima, non ti aspetti mai di vincere, però c'è un momento, una frazione di secondo, un nanosecondo in cui pensi, beh, magari sì, e quindi si sorrivi a favore di telecamera, però naturalmente sono troppo abituato a non vincere niente. Ok, c'è una, proprio una richiesta numerica di messaggi che chiedono che venga fatto a nome del pubblico maschile e femminile di Pinocchio, questo per Gael Garcia Bernal. Adesso, vamos a esplicarlo. Lo chiedevano tutte, dal vivo anche meglio. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Gael Garcia Bernal, ospite a Pinocchio, Another End esce nei cinema, è un bellissimo film per la regia di Piero Messina, è venuto a Pinocchio ragazzi, noi lo stiamo spremendo come un limone, gli abbiamo offerto un birrino e stiamo parlando di consegne di premi, lui ha vinto dei premi importantissimi, vale, vuoi ricordare quelli più importanti, così magari facciamo un riferimento proprio a un anno e a un momento. Dai, ne cito tre, il Golden Globe nel 2016 per Mozart in the Jungle, il premio Marcello Mastroianni per Itumama Tambien nel 2001 che era un pischello e il trofeo Chopin nel 2003 al Festival di Cannes. Dai, Golden Globe, oh. Ma quando tu sei lì e vinci tu. Sì, sì, bueno, poi era, ok, cominciamo con il Golden Globe. Ok, so, I was, it was a very big surprise to be nominated to begin with, because it was like, ah, ok, comedy, no, actor comedy, la comedia is very complicated to do and I was very delighted to be part of that group, no, but I went to the ceremony not knowing what was going to happen. Ok. Beh, innanzitutto la grande sorpresa è stata la nomination, perché ottenere una candidatura come migliore attore in una commedia, che è un genere particolarmente complesso, mi ha riempito di felicità già far parte di quel ristrettissimo gruppo. Quindi, lui è arrivato lì, non aveva mangiato, si era seduto con la giacca in macchina, non te lo perdoniamo, ma va bene. Troppicciata, troppicciata. Sì, 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 totalmente. Quando parte proprio quel momento e i nominati sono, ecco, cioè, parte la musica, è un concetto che per il resto del mondo è solo una cosa televisione, non può esistere veramente nella vita, no? Sì, sì. Una mezcla, una melange di tutti. Ok, so, I start to hear the first syllable of my name, no, guy, and then it becomes a reality, it becomes a reality. And then, you know, I stand up. I think you can see my reaction in YouTube. It's actually there. It's like, I stand up and I start to hug the people beside me, and when I'm hugging them, I'm thinking, it did become a reality, like, it did become something. I never in my life expected this, and so... È quasi uno shock di tutto il corpo. Sì, and what's very, very, very particular is that when I'm walking to the stage, I see on, before getting into the stage, the first director I worked with. I see Alejandro González Iñárritu, the first director I worked with, and he shouts at me, like, vamos, Gael, mierda! And I tell him, like, huevo, ta, 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 we're here, you know? And I go on stage, and it was a kind of a detonante for me to be able to, just to accept it, to accept happiness and gratitude and joy, I mean, because it is, it is, it's just a little moment of joy, no? Sono emozionato solo al racconto. No, è stupendo, è stupendo. Senti, vuoi tradurre velocemente questa parte, ma come si è capito quasi tutto? È un miscuglio di tantissime emozioni. Ricordo quando ho sentito le prime sillabe del mio nome, Gael, via via la realtà diventava sempre più reale. mi sono alzato, in quel momento ho sentito tutte le reazioni del mondo mescolate insieme mentre abbracciavo le persone e mentre le abbracciavo capivo che era effettivamente la realtà, una realtà che mai mi sarei aspettato nella vita e nel percorso lungo il corridoio per arrivare sul palco, ricordo di aver incrociato lo sguardo di Iñárritu, il primo regista con cui io abbia mai lavorato, che mi ha urlato, amore sperros, esatto, mi ha urlato merda, bravo, e a quel punto è stata una vera e propria detonazione di tutte le emozioni del mondo, un grande senso di felicità, di gioia immensa. Bene, senti Gael, siamo tanto contenti di averti conosciuto, grazie. per essere venuto nel nostro programma, divertiti in questi giorni. Sì, come no, come no. Il film è molto bello, andate tutti a vederlo, sono proprio ancora quei giorni che andare al cinema è perfetto proprio, quindi grazie, grazie mille. No, grazie a tutti voi e felice di stare qui. E ricordate, culicchi, culicchi tagate, culicchi tagate. E la giacca, Gael, la giacca. E la giacca, sempre in la macchina, è vero, sì. Ok, grazie mille. Grazie. Il nostro continua.